Si muove la Nottolini che vuole definire al più presto il roster della prossima stagione 2019-2020 che la vedrà partecipare ancora una volta al campionato di B1, lavoro alacre attento di Valentina Maltagliati e Ronzo Miccoli sul mercato. È fatta, è la notizia di queste ore, per Clara Salvestrini, ruolo bando originaria di Monterupo Fiorentino, classe 1999, alto 1,85, arriva dal Marsala 2 e ha militato anche nel Volleiro a Roma. Altra trattativa ben avviata è quella che dovrebbe portare in bianco-nero la centrale Giulia Benassi, classe 92 di Carrara. Spiccate qualità tecniche ed esperienza fanno della Benassi un innesto importante. Lo scorso anno ha giocato nel Sovereto in A2. Se ne va invece, dopo 16 anni, Ilaria Miccoli che passa in prestito all'Ambra Cavallini-Pontedera. Nonostante abbia solo 22 anni, Ilaria è una bandiera della Nottolini e magari potrà tornare alla casa madre ancora più matura e forte. Si amplia anche lo staff tecnico, accanto al riconfermatissimo Sandro Veteroni, sedicesimo anno consecutivo alla Nottolini, ed oltre al suo vice Matteo Lupetti arriva anche Simone Fiori. Conferma anche per il fisioterapista Giulian Lorenzetti, mentre il nuovo preparatore atletico è Samuele Fiore. Insomma, la società del presidente Paolo Gradi non lesina sforzi per alzare la famosa sticella e lottare per la promozione in A2. La preparazione della nuova Nottolini inizierà lunedì 26 agosto. Il girone sarà a grandi linee quello dello scorso anno con squadre toscane, emiliane, umbre e marchiciane.